Assolutamente sì, per due ordini di ragioni. Innanzitutto è importante che il bambino, sin dalla tenera età, familiarizzi con l'ambiente odontoiatrico e poi serve a due motivi. Controllare che in dentizione da latte non ci siano delle carie, sui dentini da decidui, e controllare l'occlusione, ovvero il modo in cui le arcate, l'arcata superiore e l'arcata inferiore, contattano tra loro. È infatti importante che lo specialista in ortodonzia escluda la presenza di precontatti e scivolamenti. È quindi molto importante già visitare un bambino all'età di 4-5 anni per intercettare precocemente queste problematiche.